La Somalia ce la dimentichiamo. Forse dopo vent'anni di guerra non abbiamo più speranza. Forse due milioni di disperati sono troppi, anche per immaginarli. E invece non la stiamo dimenticando. Il CESVI c'è, grazie al sostegno della Commissione Europea, con scuole, cliniche per mamme e bambini, cure gratuite per tutti, un servizio di ambulanze, un sistema di prevenzione dell'epidemia. Il CESVI in Somalia c'è. E con il CESVI c'è l'Europa e con loro ci siamo tutti noi. Non dimentichiamo di ricordarcelo.